Ci sentiamo in dovere di informare tutti i visitatori in collegamento mentale che il DJ intergalattico Tony H. ed io siamo stati rapiti. E' successo in un istante ben determinato del tempo che fugge troppo velocemente, in un luogo ben preciso dello spazio, in una notte limpida e piena di stelle, di fronte ad un mare di mani che si alzavano al cielo. E' successo in un istante benissimo. E' successo in un istante benissimo. Io sono così fati. E' successo in un villatore o non ci sono i luci dei miei pro έχει dei miei prooi. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Volevi toni H? Dimostramelo Volevi gridare? Dimostramelo Volevi battere le mani? Dimostramelo This is the police speaking This club is closed forever Don't stop Don't stop This is the police speaking This is the police speaking This is the police saying This club is closed forever This is the police saying 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 This is the police saying